Ciao a tutti, ben ritrovati o benvenuti per chi non fosse mai passato sul mio canale. Come ogni mercoledì raccogliamo insieme le news all'interno del mondo cripto dell'ultima settimana. Prima di partire come sempre ragazzi io vi invito ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nuove pubblicazioni. Purtroppo non ho ancora attivo lo strumento community qui su YouTube e quindi sto sfruttando Telegram per in un qualche modo interagire il più possibile con voi tramite sondaggi, tramite condivisione di qualche altro contenuto, qualche notizia e anche qualche promozione. Quindi mi farebbe un sacco piacere avervi anche lì. Come non partire con il grafico di Bitcoin? Grafico di Bitcoin che però a questo giro ci segna rosso perché vediamo un prezzo scendere addirittura arrivare oggi a 55,800 di controvalore in dollari. Molto strano perché se andiamo a leggere tutti gli articoli che girano nell'ultimo periodo, leggiamo Aprile mese sempre positivo, trend bullish per Bitcoin, compriamo Bitcoin e tra l'altro andremo a vedere proprio un articolo che parla di acquisire Bitcoin. Oggi però il segnale sembra diciamo leggermente differente, infatti il prezzo sembra un pochino scendere. Ho notato però Bitcoin ha seguito un intervallo, l'intervallo che uscilla tra i 50.000 e il picco di 62.000 e questo lo sta facendo da un bel po', quindi si è leggermente un pochino fermato, quindi la volatilità non è stata eccessiva, se non in questo diciamo crollo dopo il nuovo All Time I. Fatto sta che rimango, seppur vedo due belle candele rosse negli ultimi giorni, anch'io abbastanza positivo sul rialzo del controvalore. Chi invece mi sta sorprendendo sempre di più è Ethereum, perché Ethereum praticamente dal 27 di marzo ad oggi, diciamo di più ieri, è praticamente salito notevolmente, quindi è passato dai 1.600 dollari a ritornare sui 2.000 e oltre dollari, rompendo un altro All Time I. Quindi questa cosa è molto interessante, perché sembrerebbe che Ethereum stia acquisendo una, secondo me, importanza, lato anche finanza decentralizzata, che potrà secondo me garantire dei notevoli risvolti futuri su quello che è il controvalore, ma anche l'intero environment. Staremo a vedere e poi approfondiremo anche un articolo su questo. Ritornando a Bitcoin, Bitcoin scende, ma Plan B ci informa che probabilmente è ora di comprare. Infatti tramite un suo tweet, che è stato pubblicato ieri, ci informa che ora per le istituzioni è il momento per ripartire l'acquisto di Bitcoin per il secondo quarto di questo 2021. Vediamo un dato fondamentale. La Rainbow Price Chart ad oggi segna sì un controvalore che ci tiene nel cosiddetto limbo, cioè siamo in una bolla, ma non è assolutamente arrivato a quello che è il controvalore raggiunto nel 2017-2018, dove poi si è verificato una esplosione di una vera e propria bolla, facendo ritornare Bitcoin dai 20.000 ai 3.000 dollari. Quindi tecnicamente Plan B non sta sbagliando e non prende in considerazione solo questo dato che vi ho già mostrato. C'è da considerare che i picchi di deflusso, quindi i ritiri dagli exchange verso i wallet non custodial, stanno aumentando notevolmente, quindi stanno eliminando, tra grosse virgolette, dal circolante, molti Bitcoin. Quando ci sarà necessità di andare ad acquistare, perché magari qualche istituzionale inizierà ad avere interesse di accumulare sempre di più, il controvalore, soprattutto se li tiriamo fuori, va sicuramente ad alzarsi, perché la pressione in acquisto è tanta, ma l'offerta invece di aumentare si riduce. Lascio, diciamo, ai consulenti finanziari decidere se sia giusto o sbagliato comprare probabilmente il prezzo di Bitcoin. Ad oggi potrebbe essere interessante su una prospettiva di medio-lungo termine, quello assolutamente sì. Ancora JP Morgan, JP Morgan si sta praticamente dedicando esclusivamente a Bitcoin e tramite questo articolo sembrerebbe che abbiano detto che la volatilità di Bitcoin convergerà su quella dell'oro. A me solitamente piace non tanto andare a focalizzarmi su quello che è il contenuto dell'articolo, ma a ragionare insieme a voi e prendere in considerazione anche tutte le informazioni che ci siamo dati nei precedenti video. Questo che dice JP Morgan orte ad essere un qualcosa di estremamente positivo, perché lo dice tecnicamente JP Morgan e non lo dice Luigi su un video su YouTube, ma la possibilità di una convergenza di volatilità tra Bitcoin e oro ne favorirebbe non solo una adozione, ma anche un incremento notevole della reputazione per l'asset. Succederà quello che dice JP Morgan a mio avviso, la volatilità di Bitcoin si andrà con il passare del tempo a ridurre rispetto a quella precedente e quella attuale, e sarà quindi un asset che probabilmente verrà utilizzato molto di più dagli istituzionali e i retailer che ne hanno ad oggi approfittato e quindi acquistato ne gioveranno notevolmente, perché si sono comprati un asset che nel medio-lungo avrà degli ottimi risvolti positivi. Ma chi sta davvero facendo bene, addirittura a mio avviso sta in un qualche modo portando a delle previsioni, secondo me leggermente esagerate, è Ethereum, perché Cuban dice che il prezzo di Ethereum supererà quello di Bitcoin. A mio avviso questa affermazione è assolutamente senza alcun senso logico. Grazie all'item network, ai second layer, alle sidechain, probabilmente Bitcoin potrebbe comunque diventare sia asset di riserva, sia strumento di pagamento, e quindi questo non è escluso. Ma arrivare a dire che Ethereum raggiunga lo stesso controvalore di Bitcoin mi sembra molto eccessivo. Possiamo invece prendere in considerazione un'altra cosa, e quindi considerare Ethereum e la sua capitalizzazione più elevata di un Bitcoin futuro. Questo potrebbe essere molto probabile, perché? Perché su Ethereum e anche su altre chain si sta sviluppando la finanza decentralizzata, quindi io mi compro Ethereum per accedere ad uno specifico servizio, che è quello degli smart contract, della facilità di elaborazione e di interazione con uno smart contract, e quindi anche con la DeFi, e dunque questo porterebbe molti capitali all'interno, che farebbero, secondo me, far salire Ethereum a livello di capitalizzazione sopra Bitcoin. Questo non lo escludo. Bisogna vedere che cosa succede e quali saranno i risvolti, anche normativi per quanto riguarda il settore delle criptovalute, perché con delle norme estremamente restrittive si può in un qualche modo limitare la finanza decentralizzata e i fondi all'interno di Ethereum non arriveranno in grosse quantità. Parlando di situazioni abbastanza particolari, Ripple negli ultimi giorni è decollato, ha avuto un rialzo notevole del controvalore, non si sa per quale motivo sia salito così tanto, con molta probabilità il tutto è stato legato alla riabilitazione al trading su alcune piattaforme del token XRP, ha automaticamente generato un entusiasmo da parte dei possessori del token, tanto da, secondo me, far rialzare notevolmente il controvalore. Spulciando tra i vari articoli ho trovato anche proprio questo articolo freschissimo dove sembrerebbe che gli avvocati di Ripple siano riusciti ad ottenere accesso a documenti interni della SEC che trattano proprio XRP. Secondo la SEC, Ripple Labs è una digital currency company e non una digital security company. Difatti, nel secondo tweet che lui porta avanti, dovrà dire davanti alla corte, la SEC, come il termine digital currency negli anni poi si sia trasformato in digital security. Perché se noi ritorniamo su questo articolo, possiamo sottolineare che la competenza normativa della commissione non si estende oltre le security. Quindi se tu mi parli di digital currency in un documento, teoricamente tu non mi puoi attaccare, perché sulle digital currency tu non hai competenze normative, sulle digital security sì. Anche questa notizia, tra l'altro, è uscita, i tweet sono usciti ieri, nella giornata di martedì, probabilmente ha messo un po' di euforia nel mercato. Per questo video è tutto, vi ringrazio per essere arrivati fin qui, vi invito a lasciare un mi piace se il contenuto vi è piaciuto, come sempre fatemi sapere nei commenti se volete maggiori informazioni rispetto agli articoli che vi ho portato oggi e io vi mando un grossissimo saluto e ci vediamo in un prossimo video. Grazie a tutti.